Tutto pronto all'Aquila per accogliere la grande carovana del jazz 1 e 2 settembre. La città ancora una volta si riempirà di musicisti, oltre 200 per 50 concerti in varie location. Direzione artistica a tre anche quest'anno con Francesca Corrias, Roberto Taviano e Fausto Zavatteri per il jazz italiano, per le terre e del sisma. In questa edizione ci saranno produzioni speciali, giovani artisti e protagonisti di una musica che non si ferma mai nella ricerca di nuove sperimentazioni. Un programma ricco e intenso che parte dalle 99 cannelle con una partita a scacchi speciale. Una manifestazione che ormai viaggia da sé sulle proprie gambe e che ha la componente locale essenziale con l'associazione jazz all'Aquila. Ci saranno grandi nomi come Cristina Zavalloni, Gegette del Sforo, Gaetano Partipiloga, Farov e tanti altri con una parte importante dedicata alle orchestre che saranno presenti come Chicago Stoppers e altre. Il tema di quest'anno è movimenti. Vuole significare un po' non solo la rinascita avvenuta in questi anni e quindi il testimone che abbiamo ereditato dalle precedenti edizioni, da Paolo Freso e i vecchi direttori artistici che si sono rinnovati ogni anno, ma soprattutto vuole significare una rinascita dovuta anche all'attualità dei tempi, ovvero anche alle collaborazioni, soprattutto al di là dei concerti che ci saranno dalle nuove generazioni del jazz a nomi conclamati del panorama jazz italiano. Quest'anno soprattutto vogliamo che sia una vetrina in rappresentanza di tutta la filiera del jazz, però come dicevo soprattutto vogliamo che ci siano le collaborazioni per tutto l'anno con le realtà locali e quindi dalle associazioni ai stessi commercianti siete voi, perché noi appunto siamo testimoni ma di passaggio, siete voi che invece custodite questa bellissima manifestazione e da qui ripartite ogni anno per costruirne il futuro. Quindi il ringraziamento principale direi che va a voi, all'associazione Gets all'Aquila e a tutti i partner di questa nuova edizione. Per dirvene una, inizieremo, un programma sarà ricchissimo, oltre 50 concerti, oltre 200 musicisti in due giorni, però tra le produzioni originali ce ne saranno diverse. Inizieremo subito alla Fontana delle 99 Cannelle con una peculiare partita scacchi musicale in jazz e quindi vi aspettiamo per questa prima produzione originale in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e con il Conservatorio dell'Aquila. Grazie a tutti.